Il premio Poerio Imbriani 2019 e la segretaria generale dell'Istituto di Studi Storici Marta Erling. A loro è stato donato un basso rilievo dello scultore Adriano Ciavolino. La prima edizione si tenne nella sede dell'Istituto per gli Studi Filosofici con il logo ufficiale del 150esimo anniversario dell'Unità d'Italia. Siamo adesso giunti alla settima edizione del premio. È la seconda volta che l'assessorato alla cultura mette a disposizione questa prestigiosissima sede della sala giunta. Attraverso il premio vogliamo quindi trasmettere quei valori civili e morali che spinsero molti giovani del periodo storico di risorgimento a combattere per degli ideali. Patriota risorgimentale napoletano, sostenitore del diritto ad una carta costituzionale, Carlo Poerio fu arrestato e rinchiuso per dieci anni nella torre di Montesarchio prima di essere deportato fuori dal regno. Come assessorato alla cultura insieme ai miei collaboratori e con Anna Poerio abbiamo ritrovato il luogo di cui si era perso memoria in cui è custodito a Napoli il cuore di Carlo Poerio che i fiorentini quando Carlo Poerio morì e decisero di imbalsamare il corpo di questo grande protagonista dell'Unità Nazionale della Costruzione dell'Italia Unita e decisero che fosse giusto che il cuore di Poerio tornasse nella sua città, nella sua terra di origine ed è in questo posto meraviglioso che è il cimitero degli uomini illustri. Tra l'altro come CIDAC e come presidente del CIDAC abbiamo scritto al ministro Franceschini perché i cimiteri storici possono diventare luoghi e sedi di parchi nazionali letterari. Una menzione speciale è stata conferita a Biagina Laudanna per il racconto animato Carlo Poerio, la prigionia di un ideale. Un premio alla cui lavora, alla cui costruzione devo dire che l'assessorato ha lavorato moltissimo anzi quest'anno c'è una novità nel senso che durante gli ultimi mesi addirittura insieme all'assessorato e ad alcuni membri dell'assessorato abbiamo ricostruito dove si trovava nel cimitero di Poggio Reale il cuore di Carlo Poerio le sue spoglie sono a Firenze ma invece il cuore ed è un simbolo importante vuol dire appunto questa doppia volontà di mettere radici nel risorgimento italiano a Firenze e dall'altra parte nelle sue origini napoletane il cuore insomma è seppellito nella chiesa madre di Poggio Reale stamattina siamo andati lì a porre una corona di fiori e a ricordare questo uomo illustre della nostra città.